The future is in the air Dovremmo riflettere sul fatto che la democrazia non è solo libere elezioni, non è solo progresso economico, è giustizia, è rispetto della dignità umana, le diritti delle donne, è tranquillità per i vecchi. La mia casa distava cento passi da quella del boss Tano Badarami. Tutti lo sapevano, ma solo io, pur potendo da cero partire, ho continuato a ormai che la mafia è solo una montagna di merda. Peppino, siamo morti lo stesso giorno, entrambi soli e apparentemente sconfitti, ma io credo che ci sia il bene più del male, l'armonia più della discordia. Basta guardare là dove troppo spesso non si guarda e interessarsi di quello che troppo spesso non interessa. Il bene, anche restando come sbiadito, è lo sfoglio più consistente del male. La vita si svolge in quanto il male lascia intanto la straordinaria ricchezza dei valori, di accettazione, di calderanza, di senso del dovere, di dedizione, simpatia, solidarietà, che reggono il mondo, finanziando vittoriosamente rispetto alla sinistra. La vita si svolge in quanto il mondo, finanziando vittorio, finanziando vittorio, finanziando vittorio, finanziando vittorio, finanziando vittorio.